Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Sì, devi masticare bene Iscritto, questi non si buttano giù Merda che buono Ragazzi io sto per tirare su una collezione non da ridere Non devi fare un altro gioco, no cazzo No, e ti dico anche perché Perché dobbiamo sempre girare per te Amore mio ti stai sbagliando due volte Per me ecco cosa fai, niente Ti volevo comprare la bambola che gli è 200 euro Mi sci in testa quel coglione, via te le 200 e lo scassare il cazzo Non sta tanto Vai a cazzo ma una frutta mia Mi sta minchia e bambola, feghe pottana La smetti che fa così Merda il Woody mi dice su controlli vinted Woody ha fatto il pazzo 100-100 Merda Ma è il signor Pelle lei, mi scusi Ma lei è completamente pazzo Ragazzi non ho più niente su vinted Porco cazzo E raga stanotte metto fuori altra roba Niente non ho più niente su vinted Hanno preso tutto Hanno preso tutto Hanno preso tutto Grazie Udi Grazie caro 24 ore Prepariamo i pacchi e spediamo eh Grazie Udi Ah Sì vabbè Per viverci Magari 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 Sono costretto il venerdì pomeriggio ad andare Allo zoo di Treviso e Cercare di insegnare delle piccole mosse di autosopravvivenza agli scoiattoli albini Però va bene Va bene Va bene Va bene Si stanno estinguendo Si stanno estinguendo Ragazzi non bene Cioè mi hanno promosso in realtà Mi hanno promosso Mi hanno promosso No mi hanno promosso raga Praticamente prima dovevo convincere i Toria a non farsi il septum Perché volevano tutti farsi l'anello dal naso dopo che hanno visto Walt Disney E allora dovevo fare come lavoro Figa entrare E parlare col Toro Però è sempre incazzato quindi capisci L'errore l'ho fatto al day one Quando sono andato a parlare col Toro Per evitare di fargli fare il septum E puttaneva avevo i pantaloni rossi Figa riporto ancora il dolore alla gamba destra Si Oh Devo allarrat bro Merda Questa mi conviene cliparla e metterla su TikTok Ah Non scrive più Ma perché non scrive Grazie Masica Parca puttana Dai prendi lo scabello perché stanno arrivando Prendo No no dai nizzi No amo amo Prendi lo scabello c'è troppa roba Raga 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 No no sta lì Ma parca puttana Senti un attimo Ragazzi 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 non mi è chiaro non riesco a capire allora Abab Luca allora ma quante carte firmate ci sono porca troia dobbiamo farlo con attenzione no ragazzi voi non avete idea di che bordello che c'è raga ma come un topolino in che senso ok c'è un problema col microfono che dovete essere capace e adesso piano no ragazzo mi chiamare le carte ragazzo mi chiamare pami non pamela piano piano oddio vai vai bello stanza scan che figo oh mio dio ok vanno a riprendere tutti i primi pokemon 151 potrei anche tenermelo e sbustare andare avanti a sbustare comunque per il set jump il mio ma tutto il resto adesso lo comincio a mettere su vinted è una decisione raga è una scelta è una scelta già vediamo cosa ci cosa ci pulla vediamo cosa ci pulla si il 151 si penso di tenermelo allora eccolo qua infatti ivi 133 ce l'avevo il dubbio rimaneva sul vaporion che intanto vi faccio rivedere bellissimo vaporion olografico veramente stupendo e 134 e e figa puttana ce l'avevo ah li ho tutti e tre vaporion jolteon e flareon ultima pullata vai piano piano vai mettilo qua cazzo oh oh ooooh ooooh merda ma non è un artista un arbok full art io 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 ciao bello oh cos'è cintura nera ciao bello ah ok credo che la prendo ah non ho la lotta ooooh e non so se ho il Vaporeon mi sa che è l'unico che mi manca minchia che pack raga minchia datemi un secondo allora sliviamo il Vaporeon e sliviamo subito il Charmander full art meraviglioso raga eccolo qua è un problema tuo non è un problema mio se non riesco a dormire purtroppo io non vado non dormo a comando come fai te Cristo eh mi spiace cosa devo dirti prendi delle gocce per dormire cosa devo dirti no io dormo non ho bisogno non lo so non dormi dici che è un problema no vuol dire che non sono così stanca come ero in New York e poi però il giorno sei stanca non è che sono stanca mi fanno male i piedi infatti ci siamo fermati vuol dire che se mi fanno male i piedi mi fanno male i piedi molto chill molto chill signori addestramento ventata volevo fare una roba volevo fare questa è una prima edizione questa è una prima edizione ed è un addestramento ventata ma sto ora devo dirti Ah 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 ahhh Ah差不多 Matteo veni postiano in marlano grazie per avere portato 5 mozzi sulla mia bagnarola adesso venga con me che le condividerò il mio cibo voi 5 invece a pulire subito le cantine Matteo a parte che abbiamo un'altra sbustata da fare PSA 9 ventata si muove tutto ma perché devi bestemmiare Dio cane così me le fai dire ma guarda che sei uno stronzo bestemmi non io stiamo andando al contrario non possiamo sapere quanto Pokémon continuerà a investire sul brand Pokémon considerando che penso che sia una delle fonti più grandi di introito di Nintendo insieme a Super Mario e ad altre cose ma Pokémon sicuramente è forse al top 3 probabilmente come introito di Nintendo e il discorso è finché c'è interesse la passione per il vintage muore se voi pensate che adesso ci sono